Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove si segnalano code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. In A1 in direzione Bologna, sono possibili disagi per lavori per la chiusura delle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sempre verso Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncobilaccio. Rallentamenti tra Arezzo e Valdarno, sempre verso Bologna. Per lavori chiuse le uscite di Firenze Sud e di Monte San Savino, entrambe provenendo da Bologna. Rimanendo sulla A1, ma sulla direttissima stanotte, dalle 22 alle 3, chiuso il tratto compreso tra il Bivio con la variante di Bari con la Quercia e Aglio, in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!